I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Termini Merese su richiesta della locale Procura della Repubblica per un valore complessivo di oltre 205 mila euro corrispondente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini hanno consentito di ipotizzare che l'indagata, una donna di 67 anni, residente in provincia di Palermo, abbia simulato una grave infermità mentale al fine di beneficiare di un trattamento pensionistico di invalidità civile integrato dall'indennità di accompagnamento a far data dal dicembre del 1983. Sulla base degli elementi acquisiti allo stato delle indagini, l'indagata nel corso degli accertamenti sanitari all'epoca svolti sarebbe riuscita ad ingannare la commissione medica risultando affetta da una grave patologia di agnosi successivamente confermata nel 2010 che le ha garantito la corrispondizione di un trattamento pensionistico di oltre 800 euro mensili. In realtà, alla luce degli elementi probatori raccolti dai finanzieri, la donna sarebbe autonoma nel suo vivere quotidiano, in grado di provvedere ai propri bisogni senza alcun aiuto. Nel corso delle indagini, infatti, l'indagata è stata osservata mentre intenta fare la spesa presso il mercato rionale, interagendo normalmente con avventori e commercianti, e inoltre le foto estrapolate dal suo profilo social la ritrarrebbero in atteggiamenti verosimilmente incompatibili con la patologia certificata. In un'immagine ad esempio, l'indagata sarebbe ritratta mentre compie attività ludico-motoria, nonostante sia stata riconosciuta non rispondente a stimoli esterni.